La sfida educativa per la scuola si fa sempre più complessa. Il quadro è stato fatto stamani nell'incontro tra i dirigenti scolastici locali e il vescovo. I ragazzi, hanno spiegato i presidi, hanno sempre più difficoltà ad affrontare i problemi. In classe, dicono, aumentano i casi di ansia, le fobie, il ricorso ai psicologi. Purtroppo c'è tanto bullismo anche via web. Di fronte a tutto questo, il confronto con le famiglie non funziona sempre. I genitori spesso erigono dei muri di fronte all'emergenza segnalata dai docenti. Secondo i dirigenti degli istituti tigullini, questo porta ragazzi sempre più deboli ed incapaci ad affrontare gli ostacoli della scuola, più in generale della vita. C'è sempre necessità di ricordare alle famiglie che la scuola è alleata delle famiglie, non è un qualcosa che va contro i ragazzi. I ragazzi oggi sono molto fragili, forse molto di più rispetto agli altri anni e quindi c'è bisogno di maggiore attenzione, di maggiore coesione nel trovare un percorso educativo comune. Di fronte a questa sfida i dirigenti vorrebbero fare di più, consapevoli che non tutti i ragazzi sono uguali, che esiste una scuola positiva e soprattutto non ci sono tutti quei bamboccioni come da molte parti si vuol far credere. Spesso però scuola si combatte con emergenze quotidiane che tolgono tempo. Basti pensare all'avvio di quest'anno scolastico con le novità criticate della riforma Buona Scuola, l'assenza di insegnanti, la mancanza di un serio interlocutore istituzionale. Come è iniziato l'anno scolastico? Ha iniziato come tutti con qualche difficoltà dovuta alle nuove procedure che sono state avviate quest'anno per quanto riguarda la ricerca e l'assegnazione dei docenti. Tutto questo introdurre novità in un tempo molto limitato ha provocato grossi disagi, questo è innegabile dirlo. Io confido che il prossimo anno quando andremo più a regime con le pratiche e con tutte le questioni amministrative gli effetti potranno inservedersi.